La notte tra il 26 e il 27 aprile dell'anno scorso, Pasquale Apicella, 37 anni, assistente della Polizia di Stato alla guida di una volante intervenuta per bloccare rapinatori in fuga che avevano già speronato un'altra pattuglia, fu travolto e ucciso a Napoli alla calata a Capodichino dalla vettura dei banditi, lanciata a 150 all'ora. Oggi alle 11 cerimonia con lo scoprimento di una targa in memoria di Lino, come parenti amici che amavano Apicella, in via Tommaso Cornelio Angolo Calata Capodichino, il ricordo perenne del coraggio e dell'abnegazione del poliziotto, sposato, padre di una bimba di tre mesi e di un maschietto di sei anni, la moglie a dicembre entrata in polizia per frequentare un corso riservato per legge ai familiari delle vittime del dovere. Mio marito ha speso la sua vita per la giustizia, ha indossato un uniforme credendoci fino alla fine, la portava cucita sulla pelle. Per la morte della gente sono detenuti con l'accusa di omicidio tre rom del campo nomadi di Giuliano, un quarto imputato e accusato di favoreggiamento. Significa testimoniare l'affetto per il grande lavoro che le forze dell'ordine fanno in questo territorio, spesso anche a rischio della propria vita. Nel corso della cerimonia deposte corone di alloro del sindaco e del capo della polizia. Per il ministro dell'interno Lamorgese Apicella è stato un esempio. Serve a ricordare quello che è accaduto e per non dimenticare, perché le tragedie talvolta si ripetono anche perché ci si dimentica troppo spesso di quello che accade. Si è sacrificato per tutti, il Comune di Napoli lo ha dimostrato in maniera plastica ponendo questa bellissima targa.